Forse carissimi amici siete ancora a tavola per un convito fraterno, amabile, gioioso, dolce. Grazie, grazie allora che mi avete accolto nelle vostre case tramite la televisione, ma voglio dirvi soprattutto auguri. Sia veramente vero per voi quello che ha detto il Papa. Vinci l'indifferenza, conquista la pace. Non ci sia in casa chi chiude gli occhi agli altri, chi se ne frega degli altri, ma ci sia la capacità di abbracciarsi, di sostenersi, di capirsi, di avere uno sguardo di misericordia, avere come dice la preghiera, occhi di misericordia. Che noi chiediamo alla Madonna, io auguro a voi. Allora la casa, la famiglia tua, la società, l'ufficio, la chiesa diventa un reno di pace e di amore. Grazie, buon anno.